C'è un filo rosso che unisce l'emergenza sanitaria nella Asla di Brindisi che ha portato prima alla dichiarazione dello stato di emergenza per il pronto soccorso di Brindisi, Francavilla e Ostuni, poi alla sospensione delle prestazioni nel reparto di ostetricia e ginecologia di Francavilla Fontana, la mancanza di medici. A confermarlo ai microfoni di Antenna Sud il commissario Giovanni Gorgoni. Il problema è quasi esclusivamente la carenza dei medici. Il reparto di ginecologia dovrebbe tornare operativo a Francavilla entro il 15 maggio ma la situazione resta delicata. C'è un'altra criticità come spiega Gorgoni ed è quella della radiologia. Ci sono delle criticità su Francavilla riguardanti sull'ortopedia sicuramente, la radiologia, proprio sulla radiologia stiamo prendendo delle decisioni per evitare che si arrivi, ma non ce ne sarà bisogno che si arrivi a sospensioni. L'asla di Brindisi lavora anche per reperire un neonatologo per l'utin dell'ospedale Perlino. Proprio stamattina stiamo facendo una chiamata alle altre asla di disponibilità di neonatologi. Anche lì la sofisticatezza e la rarità di quella professionalità è ancora più grave perché non è un pediatra qualsiasi che mi serve in un utin, in utilità di terapia intensiva neonatale, mi serve un neonatologo. Quindi una chiamata alle altre asla per disponibilità in convenzionamento oppure di prestazioni aggiuntive. Nell'ultimo mese la AS del capologo Messapico ha lavorato per le assunzioni e la stabilizzazione di altre figure. Abbiamo assunto, stabilizzato, componente infermieristica, componente OS, componente non strettamente medica. Sulla parte medica invece la carenza è elevata. Anche e soprattutto per il fatto che complessivamente in Italia siamo arrivati in ritardo rispetto al grido d'allarme di oltre dieci anni fa quando alcuni sindacati dicevano occhio che fra dieci anni e poi arrivato andremo in sofferenza con gli specialisti. Grazie.